Hello everybody guys e benvenuti in questo nuovo video, ma come state? Spero ovviamente tutto bene, io spero di potervi annunciare i motivi della mia assenza molto presto quindi scusate ancora per queste lunghe attese da un video all'altro visto che ormai sto pubblicando un video ogni mese ma sta avvenendo davvero un cambio radicale nella mia routine, un po' nella mia vita appunto spero di darvi spiegazioni a breve, ma quantomeno volevo almeno caricarvi qualcos'altro qui su youtube e vi chiedo ancora scusa dovevo caricarvi, come avevo già promesso in passato, la backlist della Naturia per il formato Tengu Format ma indovina e indovinello che ha dimenticato una carta era necessaria questa carta? Assolutamente sì, per come porto io le backlist potevo trovare un sostituto? Nì, perché ci tengo a fare video diciamo in una certa maniera quindi cosa ho fatto? La prima cosa è stata informare voi per quanto riguarda la situazione e diciamo mi sono aiutato con il sondaggio per capire quale decklist portare se per il formato Edison o il formato Tengu Plant e quindi ho iniziato a montare un mazzo per il formato Tengu Plant ma, incredibile, anche qui mancava una carta ed era molto più necessaria appunto di quella della natura per quanto riguarda determinate giocate per quel mazzo di conseguenza ho detto, ok, devo portare un'altra decklist io stavo abbastanza nervoso perché, come potete immaginare questo periodo sono pieno, ma pieno, pieno, pieno di impegni e aver trovato il tempo per farmi la decklist o meglio, sostituire le carte da un deck all'altro e bla 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 io infatti utilizzo le bustine tutte uguali per questo motivo per cambiare da un deck all'altro al che però mi sono detto ma perché non portare uno dei punti forti del canale che, vabbè, avete potuto inciuire dal titolo che è appunto il Disaster Dragon è una versione molto classica l'ho provata in varie maniere questa forse è quella un po' più stabile meno rischiosa come al solito io gioco a 41 carte perché mi trovo meglio così per il side e quindi ho detto cazzarola, è uno dei miei mazzi preferiti la gente me lo chiede in continuazione io ho voglia di rimandarlo ho detto ma perché non approfittarne in questo periodo e quindi niente, ci ritroviamo qui a postare la decklist del Disaster Dragon per il formato Tengu Plant tuttavia, prima di iniziare se ti piacciono contenuti retroformat come il formato Tengu il formato Edison e altri retroformat o unboxing di prodotti vintage ti invito ad iscriverti al canale costa pochissimo del vostro tempo a voi può sembrare che non cambi nulla ma fidatevi che per me il discorso cambia un bel po' e aiuta a sopportare appunto il mio lavoro quindi direi di cominciare e poi a fine video faccio qualche annuncino in merito a futuri programmi giochiamo tre predice quello ciccione perché è la mia carta preferita quindi sì, si gioca a tre poi tre viverne e tre koakimeru drago diciamo che il koakimeru drago in questo formato è veramente veramente forte è vero che il formato Tengu Tengu offre diciamo una varietà enorme in termini di mazzi ma molti prediligono sempre un po' quelli sui caos o isoliti uno come agent può dar fastidio tanto a Hero per quanto riguarda il formato Tengu perché si basa appunto sullo Shining che è la nuova fusione utilizzabile nel formato se non sapete di cosa sto parlando potete controllare la guida del formato Tengu Plant sul canale me la metto qui sotto in descrizione oltretutto poi il drago kimeru è un 1009 quindi un bel bitone e può dar fastidio a Raio che è praticamente una delle carte più utilizzate giustamente all'interno del formato visto che ci sono tanti sercini la lista questa qui è praticamente drago puro non ci sono altri mostri nel main deck e qua ho approfittato per giocare tre Masked Dragon in una delle versioni per il formato Edison l'ho portato a due qui l'ho riportato a tre perché abbiamo molti più target e una new entry per quanto riguarda sempre il formato Tengu Plant che è anche un tuner che un po' serviva a questo mazzo qualora voleste recuperare anche le decklist per quanto riguarda il formato Edison del Disaster Dragon le trovate varie all'interno del canale visto che appunto è il mazzo forse più amato da da voi nonché anche fra i miei preferiti dato che sono un dragon player del c***o il nostro drago mascherato Masked Dragon per gli amici inglesi se voleste cercarlo su Dueling Book o Dueling Network o come cavolo si chiama ci aiuta a portare diversi target che sono i drago totem scusate le cacchine ma questo vi fa capire da quanto tempo io non stia toccando le carte tramite il Masked Dragon possiamo calare anche il nostro drago esplosivo che è una delle carte più forti all'interno del mazzo ma soprattutto la New Entry che sono i due aviatori delta cosa fa questo cucciolino praticamente a parte essere un tuner e calabile dal nostro amico praticamente ci permette di scegliere un altro nostro scoperto che controlliamo e aumentare il suo livello di uno di conseguenza è molto facile effettuare il sincro di livello 8 ed è abbastanza versatile perché abbiamo maniera di fare che ne so con lui 3,2,5 possiamo fare 3,3,6 o 3,6 anche con loro 4,3,7 mantenere il 4,3,7 con lui insomma abbiamo veramente tante tante possibilità di sincro con lui e sottolineiamo il fatto che i sincro drago all'interno del formato Tengu sono diciamo ancora più forti rispetto a quelli di Edison visto che abbiamo una carta come lo Scrap Dragon all'interno del formato che non è una carta da poco e infine come ultimo mostro gioco il Light and Darkness Dragon alcuni di voi potranno aver notato che non tendo a giocarlo di main ma per un semplice motivo perché all'interno del formato Edison soprattutto diciamo a pornei un po' più grandi dove magari girano anche sempre vaio turbo dove praticamente lo stronzo di vaio scusate la parolaccia purtroppo l'effetto di rimuoversi fa parte appunto dell'effetto e non è un costo di conseguenza può spammare l'effetto all'infinito e toglierci subito il lad o meglio far scendere i suoi punti di attacco al minimo e stessa cosa anche per frog alla fine dato che la rana degli alberi si triggera in continuazione e niente noi siamo costiti ad utilizzarlo comunque all'interno del formato tengo la situazione secondo me è molto diversa dato che sono più gli effetti diciamo che si attivano monouso mettiamola così di conseguenza lui diventa veramente una carta pericolosa tant'è che c'è un'altra versione di disaster dragon che se volete scrivetemelo qui sotto nei commenti e ve la posto gioco questo bel bestione in più copie o a 2 a 3 direste beh sto testando entrambe le cose è meglio giocarlo a 2 più l'ho chiamata dragon e caso che appunto voleste quella lista io ve la posto volentieri qui sul canale non appena possibile quindi questo era il reparto mostri quanto riguarda le magie giochiamo fusione futura che vabbè è la carta principale del mazzo il motivo per cui questo mazzo per l'appunto esiste e poi giochiamo doppio tifone allora alcuni di voi avranno potuto notare che nell'ultimo periodo si gioca a monotifone un po' nelle liste del formato tecnico per quale motivo ci sono diverse spiegazioni uno perché questa ovviamente è una mia supposizione ma penso sia corretta dicevo perché maggior parte dei mazzi principali come agent o chaos tendono diciamo a settare poco quindi si tende a settare poco magie o trappole ed esistono soprattutto anche spacchini come Hyperion Scrap Dragon di cui mazzi del genere ne possono tranquillamente abusare di conseguenza anche contro mazzi che settano poco il doppio tifone potrebbe essere un pochettino giallo per quanto diciamo il doppio tifone sia più probabile appunto avere la carta in mano ma allo stesso tempo potrebbe risultare una cartina gialla comunque sia in questo mazzo soprattutto in questo mazzo io reputo abbastanza necessario mettere doppio tifone sia per spaccare appunto magie e trappole quindi dietro che possono dar fastidio ai nostri dragoni ciccioni e non faccio un po' di shaming ma soprattutto perché dobbiamo pararci la nostra fusione futura perché appunto a differenza del modern funziona in maniera diversa questa non mi ricordo come nello specifico ma ricordo di aver messo su uno dei simulatori l'errata sbagliata comunque futura deve risolvere e mandano lo stesso turno i mostri tuttavia se si becca tifone praticamente addios addio mazzo quasi di conseguenza il nostro il nostro doppio tifone serve anche a beccare un presunto tifone da parte dell'avversario quindi mentre magari può risultare una giocata gialla fare tifone su un altro tifone in questo caso ci va benissimo perché dobbiamo proteggere a tutti i costi la nostra fusione futura quindi questa è una breve spiegazione per cui tendo a giocare doppio tifone ed è necessario almeno in questo mazzo se non addirittura a 3 poi doppia pod of duality jara della dualità che allora potenzialmente questa potreste anche portarla a 3 e perché una giocata che si può fare questa confermata da judge ho perso anche una partita perché non sapevo di questo ruling potete fare jara a dare futura e usare futura nello stesso turn come si può koname ha detto di sì per il formato 2011 quanto meno di conseguenza non è male giocarla a 3 tuttavia per come è impostato diciamo il mio mazzo tendiamo un pochettino più a fare qualche special in più rispetto a una versione che giochiamo più light and dark rest of the dragon quindi più ciccioni del genere per tributo ed in quel caso avrebbe senso giocarla a 3 e in late game tuttavia la gialla della dualità potrebbe essere un pochettino briccosa e gialla quindi potrebbe far perdere la partita nonostante abbiamo diciamo un numero di carte trappola abbastanza corposo all'interno del mazzo quindi mi sono trovato meglio a 2 per quanto riguarda questa lista qui almeno nello specifico poi gioco un mostro resuscitato che vabbè che vi devo dire su sta carta che è sbagliata in sto formato e ci sono varie carte sbagliate all'interno del formato e questa è una di quelle poi gioco vabbè tempesta potente è inutile che me lo dico libero della luna che è ancora più forte in questo formato è delimitato a 1 dark hall questa non la reputo una carta così sbagliata all'interno del formato e il mind control allora mind control questa è una carta che ho notato non molti scelgono di giocare all'interno di drago io personalmente soprattutto in questa lista lo faccio uno perché diciamo abbiamo il tuner che è calabile anche abbastanza facilmente un 1500 è un drago quindi lo possiamo rievocare di redice possiamo sfruttare quindi lui più un mostro dell'avversario per rubarcelo è forte anche contro gk quindi contro un eventuale recruiter mi pare dei custodi di tombe livello 3 per prendercelo e fare l'overlay per un'evocazione exeed ma soprattutto c'è anche da considerare che all'interno del formato tango plant ci sono tantissimi sincro drago ma veramente tanti più del formato edison perché abbiamo l'orient abbiamo lo stardust e anche lo scrap dragon e trishul che se rubati con mind control possiamo sfruttarli insomma per calarci il nostro redice visto che non lo stiamo tributando ma lo stiamo rimuovendo quindi è veramente forte per me il mind control per quanto riguarda la fine del mind deck quindi con le carte trappola gioco doppio warning una delle carte più forti del formato fiendish chain allora non gioco veder di main perché un po' potrebbe cozzare con il drago totem nonostante diciamo abbiano entrambi dei pro e dei contro ma veder obiettivamente puoi giocarlo nel turno senza settarlo quindi è più difficile che ti venga tolto quindi ha tanti pro però lo gioco anche di side tuttavia di main ho preferito giocare le fiendish chain perché appunto partiamo da una lista puro drago puro quindi possiamo utilizzare il drago totem molto più facilmente ed è veramente forte questa carta soprattutto nel formato tanku plant dato che ci permette anche di parare non solo negare gli effetti del mosso sul terreno ma addirittura evitare che ci attacchi quindi per guadagnare tempo non è nemmeno così male ed è anche forte contro che ne so un potenziale floodgate come può essere magari il rayo cristia che se ne vedono tantissimo all'interno del formato un hyperion che sta cercando di spaccarci il red ice insomma ha veramente tanti usi ovviamente il mazzo certo tutti prediligono ad andare primi però diciamo questo mazzo tende diciamo a preferirlo in maniera più esponenziale dato che tende a fare un po' più di control continuando abbiamo doppia prison e doppio bottomless allora premento che il bottomless è una delle carte che sto valutando un sacco all'interno del formato perché ovviamente sono forti ripeto sono forti soprattutto se parti per primo e l'avversario non ti riesce subito a fare tanto non ti crea tanti fastidi però ne vedo un pochettino lente e sto provando in un'altra versione anziché i bottomless i minecrash minecrash che sono un po' più spicy però per l'appunto come vi dicevo all'inizio video ho voluto mettermi una lista un po' più classica un po' più bilanciata ed equilibrata minecrash diciamo se volete giocarlo fatelo tranquillamente però diciamo un pochettino più skill per certi versi perché secondo me se vuoi sfruttarlo appieno devi essere bravo a prevedere anche potenziali mosse dell'avversario in base a come sta giocando però è anche vero che minecrash è molto forte contro pod quindi quello si alza di pod e tot gli spari minecrash e sai anche cosa ha nella mano quindi è veramente forte però bottomless ripeto non è brutto però io forse per come gioco io tenderei a giocare forse in minecrash e fare più control che diciamo dar fastidio in questa maniera ecco per quanto sia sottile la differenza poi il TT che è veramente forte il solennone che vi devo dire mirror force mirror force è un'altra carta che sto valutando perché secondo me è forte ma non così tanto all'interno del formato perché ci sono veramente tanti effetti che risolvono al cimitero ci sono ecco un altro motivo per cui non mi piace il bottomless che sono un po' lentine e essendoci tanti spacchini all'interno del formato te le tolgono sempre quasi facilmente le carte di conseguenza carte come minecrash o computer che sono un po' più veloci hanno delle condizioni di attivazione molto più facili secondo me secondo me se la capano un pochettino meglio rispetto a queste qui anche le prison per certi versi mentre queste sono molto più fastidiose perché magari se parte l'effetto di hyperion glielo puoi comunque negare per certi versi e comunque giocando tante tante trappole gioco la starlight road che ho deciso lo stesso di giocare soprattutto per queste due perché rimangono sempre sul terreno quindi l'avversario è più diciamo spinto a giocare i vistori a fare giocate che tendono a spaccare il terreno ci sono anche il dark hole ci sta black cross ci sta il tt tante carte che possono dare fastidio a questo mazzo che rispetto diciamo ai non è un t1 il disaster dragon secondo me ma è più un t1 e mezzo potremmo definirlo un t1 e mezzo che può dare un sacco di di fastidio ma non è un t1 e poi come 41esima carta la dust shot che vabbè soprattutto in questo formato è veramente forte andiamo quindi con l'exelec abbiamo vabbè ovviamente il drago a 5 teste il chimera tech catastor vieni qua fuori tu brionac l'orient black rose l'exploder dragon che finalmente questo è disponibile anche all'interno del formato edison è veramente veramente forte secondo me per fare un bel burn è fortissimo l'antico drago fatato che vi consiglierei di giocarlo praticamente quasi sempre in quasi ogni decklist soprattutto se avete spazio dato che il grip keeper è veramente rotto all'interno del formato se volete recuperare la lista edison è disponibile sul canale e qualora voleste la versione 2011 ve la porto anzi dovrebbe arrivare perché già messa la richiesta dettagli colostal fighter scrap dragon stardust trisciola e infine come xeed abbiamo il levier il levietà e utopia come dicono gli inglesi questo però appunto abbiamo tante livello 4 possiamo usare mind control contro un rayo qualcosa e questo appunto i livelli 3 ne abbiamo anche abbastanza e soprattutto se vogliamo rubare il recruiter ci fa utile avere xeed per evitare che rocchi infine il side che paradossalmente è stata la cosa più difficile da fare all'interno della lista perché per questo mazzo è veramente tosta perché si può andare di politica di giocare solo drago quindi giocare solo carte che diano fastidio come debunk meshing round di qualcosa a caso oppure mettere anche mostri al di fuori del del tipo drago quindi variare un pochettino che fa non può impattare sul drago totem comunque io ho scelto quest'ultima via quindi gioco 3 rayo e vabbè che vi devo di boss monster del formato forse la carta migliore del formato perché è la più versatile e è rotta yellow 4 fortissimo cyber drago macchina ci fa paura soprattutto karaguri perché alla fine il problema di drago è quando ti vengono sopra di attacco e in quei karaguri lo fa molto facilmente soprattutto visto che ti sposta le robe in difesa poi il doppio valer che ho deciso di giocare lo stesso per aggiungerlo al fiendish chain contro determinati matchup ed è veramente forte il valer c'è nulla da dire due lance proibite addirittura ho tentato di portarle a tre contro mazzi abbastanza trappolosi come tg per esempio danno tanto 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 fastidio e sono fortissime anche per un eventuale damage step quindi per spaccare il raglio dell'avversario con qualche altro ciccione forti 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 il terzo tifone perché troppo necessario all'interno del del mazzo e best carta del side secondo me del drago eccole qui le rivalità dei signori di guerra che tendo a sottolinearlo questo all'interno del formato tango plant funziona diversamente dal formato edison nel senso che mentre per il formato edison dico una cavolata gioco frog monarch c'ho la rana degli alberi e c'è questa attiva io posso tributare lo stesso rana degli alberi per evocare kaius o un monarca qualsiasi nel formato tango plant questo non è possibile quindi se avete la ranocchia dovete evocare per forza un musso dello stesso tipo della ranocchia di conseguenza capite che sta carta come scontro gozen diventano veramente forti all'interno del del meta mentre in edison sono un pochettino più scarsine e infine per ultimo abbiamo le d-bank d-bank che sono un po' carte generiche sottovalutate all'interno del formato ma secondo me sono fortissime perché sono anche delle contotrappole negano maxc negano valer negano sangham insomma tanti effetti anche che si attivano sia in mano che nel cimitero ci possono dar fastidio e questa è un'ottima counter un'ottima risposta per quanto riguarda la notizia il motivo per cui sono così assente su youtube e su yugi in generale ve la dirò in un video a parte sperando di poterlo fare breve e niente prossima decklist proverò a caricarvi quella con le carte mancanti altrimenti procederò con altre decklist sempre un pochettino spicy come piacciono a noi in ogni caso io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto andatevi a recuperare i video magari che non avete visto in merito al formato Tengu Plant come la guida andate a seguire anche i miei friends di Tengu Format Italia in Edison Format Italia un salutone anche a loro e seguitemi sui social o sul mio server Discord quindi grazie per aver visto il video fino a questo punto e rivederci al prossimo video see you next time weee